Parcheggio di Galleria San Carlo, quartiere Arcella, Padova. La polizia sta facendo un controllo. Chiede i documenti a due giovani, lui ha 16 anni, è nordafricano, lei ne ha 20 ed è incinta. Il controllo dà fastidio e a quel punto si scatena un parapiglia. Il ragazzo reagisce, calce pugni ai poliziotti, interviene un'altra pattuglia. I due vengono fermati e portati in questura. Lì gli agenti fanno la scoperta. La sera prima la ragazza, una ventenne napoletana, era finita in ospedale a Mestre dove il 16enne l'aveva massacrata di botte. Per il giovane, che addosso aveva cocaina e hashish, è scattato l'arresto.